Ah? No... Si sono... Si sono... Si è vero un po' 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 Buona... Buona... Questa cazzo è un po' Uff Antonio Bifilli... Uff Antonio Bifilli... Cazzo... Eh si supporta... Oh... Oh... Ehi! Andrea... Cazzo... Ehi Pistiti... Zocca... Da esterno... Prova centrale Non mi tiro il po' Dio non mi... No, no... Non mi tiro il po' Ehi! Ehi! Uff Antonio Bifilli... Ehi! Ehi! Questa cosa! Ma che fanno! Lui la cana della tenata! 40 m! Ma fattura! Ehi! Pasta! Ehi! 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 che la rue, la mantè! Va qua qui là, va va! Va, 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 va a fianco! Uuuuh! Madonna! Uuuuh! Non c'è, 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 non c'è! Ehi! Ehi, ehi! Bello, bravo! Ehi! Porca droga! Va bene dai! Dai che recuperiamo! vai convinto Andre cambia tutto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.